Non è stato un fine settimana di riposo per Bari e Foggia che mercoledì sera si giocheranno al San Nicola in gara secca, il passaggio al terzo turno playoff di Serie C. Il minimo per i biancorossi, un sogno per i rossoneri e proprio in questo concetto è racchiuso lo stato d'animo delle due squadre. Auteri sa che non sarà una sfida facilissima, soprattutto guardando le ceneri dell'incandescente Catania. In fondo il tecnico di Floridia ha subito uno dei pochi KO proprio della formazione di Marchionni, che però ha perso al San Nicola quando sulla panchina si era appena accomodato Carrera. Nell'escursione un piccolo brivido che non si giocasse c'è stato per i noti casi di positività che hanno messo in ginocchio la Virtus Verona, ma per volontà della ASL tutto è rientrato. Purtroppo però il virus affligge ancora il Foggia che non dovrebbe recuperare né Rocca e neanche del Prete, due assenze pesantissime. Il Bari è più forte tecnicamente ed ha una panchina di maggiore qualità. I rossoneri lo sanno bene e certamente punteranno su altri punti di forza, magari la velocità o la voglia di emergere di qualche giovane. Bald è un esempio lampante. Auteri ha messo il termometro sotto il braccio della sua squadra e gli ha dato un 7 come stato di forma. Marchionni dovrà dunque preparare una sfida da 7,5 per fare una brutta sorpresa ai cugini. Alla fine vincerà il migliore, ma il migliore dovrà essere anche il più cinico perché la gara secca impone proprio questo. L'appuntamento è fissato per il 19 maggio alle 17.45.